Tu hai lavorato molto sui magneti, che risultati hai ottenuto? Abbiamo ottenuto dei risultati importanti perché le applicazioni di questi sistemi magnetici solo nel campo della prefabbricazione sono pressoché infiniti, cioè le finte fughe che si vedono nei pannelli, i vuoti creati per i serramenti, hanno tutte queste applicazioni, questi magneti. Pensiamo addirittura, cioè, pensiamo, viene già attuato questo sistema negli impianti dove vengono prodotti solai, dove non è più possibile usare le pignate perché non resistono al fuoco, queste sponde magnetiche vengono posate da robot e quindi con dei quantitativi che sono veramente importanti perché ovviamente il manufatto ha diverse misure per cui si fanno delle forniture che possono essere di 1000-1500 sponde magnetiche a corredo di questi impianti che producono circa, con 6 dipendenti, 1000 metri quadri di soffitto al giorno.